Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa Diocesana, sono lieto di comunicarvi che nei giorni 1-4 luglio accoglieremo a Iaca di Piraino, presso la parrocchia Maria Santissima di Lourdo, le reliquie di Santa Bernadette. Santa Bernadette è la giovane la quale è apparsa la Vergine Santa a Lourdo e le reliquie rimandano alla sua esistenza, alla sua vita, al suo corpo, alla sua umanità. Una ragazza semplice, mite, la quale la Vergine Maria ha affidato il compito di diffondere un accorato appello, l'invito alla preghiera, alla conversione. E i giorni della presenza delle reliquie di questa giovane santa devono indurci tutti a recuperare l'importanza nella nostra vita del dialogo con Dio attraverso la preghiera, l'ascolto della parola, ma anche a suscitare nel cuore il desiderio della conversione. E il messaggio di Lourdo invita a vivere la conversione lasciandosi illuminare dall'amore, perché solo l'amore riesce a trasformare la nostra vita in una realtà di dono per i fratelli, in particolare per le persone sofferenti. Non dimentichiamo che a Lourdo il messaggio della sofferenza è fortemente presente. E Bernadette viene tra noi per ricordarci che il dolore e la sofferenza si possono sconviggere con la forza dell'amore. A tutti auguro di vivere intensamente questi giorni, di recarsi agli Aca per pregare e venerare le redique e soprattutto per chiedere la grazia al Signore di imitare l'esempio di Santa Bernadette. A tutti un caro saluto.